1944, lo storico scudetto dello Spezia, dal teatro questa volta passa un libro, viene raccontato così? Sì, è uno dei tanti libri su... mi sono accorto a Spezia che ci sono tanti libri su La partita dei Vigili del Fuoco. Quando mi è stato proposto ci sono rimasto un attimo così perché non mi aspettavo di fare un libro sullo Spezia. Avevo sempre visto lo Spezia come una specie di intersezione strana sui cinque scudetti di seguito del Gran Torino. E invece mi è stato proposto di fare questo libro sullo Spezia. Ci sono rimasto un po' così, poi improvvisamente mi sono reso conto che io a Spezia ci sono cresciuto, ora non ci vivo ma ci sono cresciuto e quindi quando mi è stato proposto ho detto posso metterci molte cose che io conosco sia di Spezia che della Lunigiana perché questa è la zona di mio padre di fatto. Poi la cosa strana anche in questo caso è il fatto che sempre pensando al mio legame con Spezia è uscito che mio zio, mio zio paterno è stato per 40 anni arruolato ai Vigili del Fuoco di Spezia e ha fatto l'autista dei Vigili del Fuoco di Spezia. Non di quell'autobotte ma comunque ha lavorato come autista dei Vigili del Fuoco di Spezia e quella cosa mi ha molto colpito. Non a caso il suo nome, vero, è quello del protagonista di questo romanzo. Ecco, brevemente appunto lo diceva anche lei, come viene raccontato questo romanzo? Innanzitutto è un romanzo perché io non sono assolutamente in grado di scrivere qualcosa che abbia a che fare con la storia, cioè non mi piace come scrivo quando scrivo di storia. Quindi il mio unico modo di essere, secondo me, efficace nella scrittura è quello di scrivere un romanzo. Quindi un romanzo storico e quindi un romanzo particolarmente dettagliato su quello che è l'ambiente e quindi finalmente dire che Spezia è stata la città più bombardata durante la storia della Seconda Guerra Mondiale. Cioè nessun'altra città è stata bombardata come Spezia. E la cosa che mi ha molto stupito è che un recensore ha scritto che questa storia del fatto che Spezia sia stata così tanto bombardata è stata praticamente rimossa dalla coscienza storica comune, come se fosse una mancanza, come se quel periodo dovesse essere rimosso. Mentre in realtà, secondo me, è una cosa estremamente importante e che fa riflettere.